ariete riprendete un migliore tono emotivo in questa giornata la luna favorevole alza l'umore anche se non annulla le problematiche del periodo incomprensioni nei rapporti accordi che non decollano stanchezza toro giornata sotto tono per voi già insoddisfatti e bersagliati da venere giove opposti che rendono conflittuali le faccende di cuore e difficoltoso il buon equilibrio intimo la vostra forza è la tenacia e con quella vincerete gemelli prosegue il periodo benevolo che vi apre le porte a molteplici progetti di lavoro e non dinamici e buoni comunicatori cercate le novità per vivere esperienze diverse e a pagare la vostra sete di conoscenza cancro si riaffacciano questioni mai risolte che interessano il settore lavorativo o la sfera delle relazioni dei rapporti con chi vi circonda ottimo momento invece per l'amore che esprime tutta la sua potenza leone la luna oggi transita nel segno e sostiene le percezioni emotive positive ma vi rende anche irritabili eccitabili con una carta tolleranza verso chi vorrebbe dialogare con voi moderate gli impeti vergine un buon assetto astrale protegge l'andamento del periodo ricco di opportunità per intraprendere nuove strade di vita per ottimizzare una storia d'amore per rivedere anche qualche rapporto o collaborazione bilancia fase positiva e densa di novità piacevoli movimento fisico e mentale prevale il senso della leggerezza e la voglia di elaborare nuovi programmi per il prossimo futuro non manca qualche ostacolo ma tutto funziona corpione oggi siete di umore basso inclini al nervosismo e alla insofferenza verso gli altri meglio tenere a bada la vostra indole un po spigolosa e ascoltare invece le ragioni del cuore che adesso sono vincenti sagittario la giornata scorre in modo pieno e pone l'accento sul rinnovato entusiasmo che pervade i vostri programmi di vita e di lavoro è un periodo che vede molti contatti ed esalta la sfera sociale le amicizie le collaborazioni capricorno qualche disagio nel settore professionale può disturbare queste giornate che comunque sono produttive e di sviluppo positivo mentre l'accordo di coppia e con chi amate è un punto focale che vi porta soddisfazioni acquario la luna opposta oggi gioca un ruolo poco benevolo e vi inclina al nervosismo spesso alla litigiosità anche se per motivi futili il fatto è che siete sollecitati emotivamente temperate le sensazioni e distraete la mente pesci un cielo astrale dai toni sentimentali e un po' autoindulgenti vi orienta a concentrarvi sull'amore sul vostro benessere a volte anche portandovi su strade un po' confuse dalle quali poi non riuscite più ad uscire buone stelle buone stelle